Allora, per questo servizio, per queste interviste, le colleghe e tutti i colleghi del distretto di Gravina di Catania hanno subito delle, credo, minacce e intimidazioni sotto forma di e-mail da parte dei funzionari ASP che intimavano a diffidare la Sette, non è l'arena, a fare mandare le immagini e di rapportare, se mai qualche giornalista fosse venuto, l'indomani mattina all'ASP. Io prendo atto di questa cosa, adesso chiederemo a Mario Falcone che è un saluto, è stato Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, poi un uomo si occupa, cioè se è questa cosa, poi magari la prossima settimana qualcuno ci darà una risposta, la ritengono a qualcosa di grave, perché noi facciamo semplicemente informazioni, credo che se un medico non riesca e non abbia la possibilità di parlare e raccontare delle vicende che vive in prima persona e subisce in prima persona, adesso siamo veramente, per carità, prendo atto di quello che sta dicendo, spero non sia così, se qualcuno vuole dimostrare che non è così ci faccia sapere.